Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You, brevissima recensione di questa forbicina comprata su Amazon ad un prezzo pensate di soli 2 euro arriva dalla Cina quindi ci vorranno circa dalle 2 alle 3 settimane però ad un prezzo così è veramente conveniente l'ho comprata per essenzialmente utilizzarla nel caso di dover tagliare delle garze comunque per il pronto soccorso da mettere quindi nella mia valigetta del pronto soccorso ho fatto anche una recensione è una forbice leggerissima in acciaio inossidabile vado al volo a farvi vedere le dimensioni come vedete sono 9 cm e ci entrano benissimo le due dita è veramente leggera quindi anche per il trekking per portarla appunto come nel mio caso nella valigettina di pronto soccorso è leggera quindi si mette dappertutto e la punta come vedete è all'insù arrotondata va bene quindi per tagliare sia garze sia cerotti sia anche delle unghie ma anche peli del naso per esempio qua c'è scritto stylus qua c'è la vita in mezzo link in descrizione se siete interessati all'acquisto alla prossima review